In compagnia di Giorgio Pasetto, che è consigliere comunale a Verona, abbiamo sentito il suo intervento questa mattina, se non sbaglio, ed è l'esempio, diciamo, proprio la prova provata, l'esempio materiale di una presenza radicale nelle istituzioni, come lo è stata, purtroppo la fu presenza radicale anche a Roma, con Riccardo Maggi nel Consiglio Comunale, Giorgio Pasetto è consigliere comunale a Verona, ecco, gli chiediamo come è riuscita a farsi eleggere tecnicamente una lista civica, una lista radicale, e insomma ribadire anche, gli chiediamo un po' di ribadire i principi, un po' il sunto del suo intervento, sull'importanza di una militanza effettiva radicale anche nelle istituzioni. Grazie, grazie mille. Allora, niente, la mia è un'esperienza che nasce quattro anni e mezzo fa, perché noi termineremo adesso con le prossime elezioni a maggio del 2017, l'esperienza mia nasce con una conoscenza personale con il sindaco Flavio Tosi, sono entrato nella sua lista civica come radicale, perché proprio parlando con lui abbiamo cercato un po' di portare qualcosa di nuovo all'interno di una civica, una lista civica rappresenta un po' tutta la società civile e quindi io sono entrato anche per questo motivo. La cosa è andata bene al primo colpo perché sono passato e sono diventato consigliere comunale. Da consigliere comunale, come radicale, puoi portare avanti tutta una serie di, chiamiamole battaglie, comunque posizioni, dove a Verona sono poco conosciute. Verona è una città molto conservatrice, dove la Chiesa conta tantissimo, quindi parlare di eutanasia, di diritti civili, di coppie omosessuali è stato dirompente, infatti ho ricevuto un'attenzione mediatica superiore a quasi la totalità dei consiglieri comunali e quindi questo è molto positivo. Poi altri argomenti sono riuscito a portare avanti come le piste ciclabili, anche il che è la legalizzazione della cannabis e io anche la legalizzazione della prostituzione ho portato avanti, mi hanno dato un'intera pagina anche di giornale perché comunque sono argomenti che creano dibattito. Quindi la mia speranza è che il gruppo futuro dirigente di Radicali Italiani vada nell'ottica di presentare quando ci sono le elezioni in ogni singolo comune comunque qualche persona radicale che possa entrare nelle liste. Io ho un'idea per il prossimo giro perché non volevo fermarmi alla semplice riproposizione di Giorgio Pasetto nella lista civica del sindaco ma la mia intenzione è quella di proporre una lista proprio dove si capisca in modo evidente che sono radicale anche dal marchio ma non solo radicale perché la lista si chiamerà Verona si muove e quindi va anche questo Verona si muove e il sottotitolo sarà Liberali, Ecologisti e Sportivi perché poi io vengo comunque dal mondo dello sport perché sono laureato in scienze motori e fisioterapista quindi il mio mondo è anche quello e questa lista vorrebbe appoggiare il candidato sindaco di Tosi in questo caso che non sappiamo ancora se sarà lui perché c'è il problema del terzo mandato a meno che non ci sia una variazione nella legge come si mormora a Verona o che ci sia qualcuno al posto di Tosi. Ecco che allora secondo me è avere una lista che un po' si smarca diciamo dalla lista Tosi che comunque è molto di destra e quindi cercare un po' di avere più peso con un numero superiore di voti potrebbe forse farmi aspirare a qualcosa di più di consigliere comunale. Allora tanto per capire dove andranno in qualche modo le future forze radicali a contribuire e ad aiutare nell'amministrazione della città. Alla Tosi che sappiamo perlomeno insomma ha iniziato nella lega nella lega di Bossi in qualche modo in un certo periodo era anche un'alternativa a Bossi quasi parallela alternativa. Adesso nella lega di Salvini Tosi come si pone? Cioè è sempre diciamo in una nicchia oppure ormai ha un'autonomia politica quasi da configurare una forza a sé stante? Ecco voi forse questa notizia non lo sapete ma Tosi è uscito dalla lega. Ecco quindi Tosi ha formato il suo movimento che ha chiamato Fare quindi è un movimento nuovo completamente staccato dalla lega anzi in rottura con la lega sia per varie ragioni anche ragioni di contenuto perché la lega di Bossi se voi ben ricordate era una lega federalista, quella di Salvini è tutt'altro che una lega federalista cioè si parla di nazionalismo allo Stato puro e quindi Tosi si è sganciato. Questa uscita ovviamente lo ha un po' isolato nella politica anche a livello nazionale tanto che alle regionali comunque Fare e Tosi hanno preso il 12% che non è comunque male in Veneto quindi devo dire che il percorso io devo dire che Tosi sta cercando di allacciare rapporti sia col centro-destra che anche col centro-sinistra Renziano quindi questo è il tutto e quindi stiamo un po' a vedere come evolvono un po' le cose se si parla di questo partito della nazione ma forse potrebbe essere anche un futuro politico legato a questa cosa qui dove all'interno magari ci sono varie anime io mi auguro che l'anima liberale pian piano prenda sempre più peso però insomma tanto dipenderà anche da noi radicali se riusciamo a stare un po' più uniti e compatti anche Bene, con questo auguro ringraziamo Giorgio Pasetto ricordiamo il consigliere comunale a Verona e ovviamente in bocca al lupo per quello che sarà comunque sia per l'iniziativa elettorale che sarà a breve mi pare di aver capito maggio 2017 Grazie, grazie Giorgio Grazie